sono roberto minervini regista di che fare quando il mondo è in fiamme questa è la scena in cui judy hill protagonista organizza un concerto per amici un concerto d'addio perché questo è il giorno in cui judy deve traslocare e chiudere il proprio bar il lupo padu un posto storico dove ci si ritrovava per fare musica e per parlare per stare insieme quindi un concerto di dimensioni familiari non avevo previsto di girare questa scena infatti ho fatto a film già montato mio padre se n'era andato da poco io avevo sospeso i lavori al film e quando li ho ripresi ho rivisto questo film e ho pensato che mancasse un qualcosa un aspetto dell'umanità di judy che mi ricordasse quanto di bello c'è nella sua vita andiamo a new orleans e temo su questa scena velocemente prendiamo delle luci di natale appese alla parete coinvolgemo gli amici di judy e cantammo una canzone canzone su su di lei su una piccola indiana quando abbiamo montato questa scena abbiamo deciso di escludere il pubblico e volevo che questa scena in questa scena predominasse il volto di judy con le sue parole cantate gridate e con i suoi movimenti che sono altrettanto musicali questa scena è la colonna sonora del film dove il ballo e il canto servono ad esorcizzare le preoccupazioni quotidiane alla prossima alla prossima alla prossima alla prossima alla prossima alla prossima